Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questa domenica faremo ancora i conti con un vasto campo di alta pressione sub-tropicale che avvolgerà tutto il Mediterraneo e buona parte dell'Europa centro-occidentale. Le temperature in questo contesto sono attese in ulteriore aumento, specie al nord sul lato tirrenico. Come potete osservare il cielo sarà sereno quasi ovunque, sole e montagna, qualche addensamento pomeridiano che potrebbe dar luogo a qualche temporale. In Abruzzo sarà un weekend complessivamente stabile, soprattutto al mattino con ampi spazi sorveggiati. Nel pomeriggio possibilità di addensamenti in montagna con dei locali acquazzoni, qualche rapido temporale. Però parliamo di fenomeni molto isolati e di breve durata poi in serata. Cieli nuovamente sereni ovunque. Le temperature stazionarie le massime tra i 31 e i 34 gradi, minime tra 20 e 26 gradi, venti deboli di brezza. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. A tutti voi un buon e sereno weekend. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.